Buongiorno FTO Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib infatti in questo momento guadagna allo 0,5% circa, siamo intorno ai 19.500 punti, è possibile vedere dal grafico intraday la violazione della base del canale decrescente che si era disegnato ai massimi di inizio mese, un segnale di debolezza che per il momento nonostante rimbalzi questa mattina ancora non è rientrato, solo se i prezzi dovessero risalire al di sopra di area 19.630-40, in quel caso avremmo la possibilità di assistere alla ricopertura del gap ribassista che si è aperto il 13 aprile con lato superiore intorno ai 19.980 punti, fino a quel momento cioè fino a che i prezzi rimarranno al di sotto delle resistenze indicate invece il rischio di andare a ricoprire il gap, in questo caso rialzista del primo di marzo con una base intorno ai 19.000 punti, quindi per il momento i segnali di debolezza ancora non sono rientrati, nonostante questo abbiamo alcuni titoli che si comportano bene questa mattina, tra questi intesa San Paolo, il rialzo di 1,5% circa, il ribasso ieri è stato abbastanza deciso, non ha comportato però la violazione dei supporti rilevanti, vediamo ad esempio la media mobile a 50 giorni che per il momento rimane intatta come supporto a 2,35 Euro, la linea di tendenza che sostiene tutto il rialzo che c'è stato dai minimi lo scorso giugno è ancora più distante, per il momento quindi anche in termini di ritracciamenti Fibonacci, la flessione che è partita da area 2,57 può essere considerata un fenomeno correttivo, le cose cambierebbero al di sotto dei 2,35 Euro, in quel caso dovrebbe provare il test della nostra trendline a 2,17-2,18 circa. Il rimbalzo di Erno dal canto suo per il momento non cambia le carte in tavola, nel senso che la forte resistenza offerta dal massimo di inizio anno, posizionata a 2,59 circa è ancora lontana, i prezzi hanno cercato di avvicinarla come vediamo nel corso della parte terminale del mese di marzo, in prossimità di quella resistenza si è disegnata questa area di distribuzione che può essere assimilata a un doppio massimo, anche se non è proprio netta, ma in ogni caso una area di distribuzione preparatoria ad una flessione che poi effettivamente c'è stata. Notiamo che in un'ottica temporale più ampia il rimbalzo in atto dai minimi dello scorso anno ha ritracciato per il momento la metà della precedente discesa, ci sono quindi evidentemente ancora notevoli spazi di crescita, ma questi verrebbero liberati solo a di sopra di area 2,60, quindi nel breve termine si possono sicuramente tentare posizioni a rialzo da proteggere con uno stop subito a di sotto dal media mobile a 50 giorni, quindi con la relazione di 2,35, ma solo a di sopra di 2,60 avrebbe senso intraprendere posizioni di ampio respiro da un punto di vista di orizzonte temporale. Situazione positiva anche per Unicredit, questa mattina rialzo di più del 2%, siamo al di sopra di 13,10, nel caso di Unicredit in temi di media mobile, ad esempio la media mobile a 50 giorni è stata violata al ribasso settimana scorsa, quindi ci sono dei segnali di debolezza forse più accentuati rispetto a quelli che abbiamo visto su Intesa, anche in tendenza che sale dal minimo di novembre è stata violata, infatti se andiamo a guardare il grafico di forza relativa che lega due titoli, ossia quello che mette il rapporto Unicredit con Intesa San Paolo, vediamo che dopo un tentativo di rialzo che si era visto nella parte terminale dello scorso anno e nel mese di gennaio con Unicredit che aveva iniziato a sovraperformare Intesa, nell'ultimo bimestre invece questa tendenza si è nuovamente invertita e siamo rientrati in quello che è il trend di lungo termine con Unicredit che sottoperforma costantemente Intesa San Paolo, quindi quello che ci dice il grafico in termini assoluti viene confermato dal grafico in termini relativi, segnali forse più preoccupanti per Unicredit, ma notiamo anche un fatto abbastanza evidente, ossia che il titolo si sta muovendo di fatto negli ultimi mesi in un'area laterale, quindi fino a che ci manterremo al di sopra della base di questa fascia, quindi fino a che i prezzi rimarranno di sopra di 12 Euro, queste oscillazioni come il ribasso che abbiamo visto nelle ultime sedute saranno sicuramente importanti in un'ottica di breve termine, ma non cambieranno la struttura del trend di lungo termine che rimane positiva grazie al forte impulso che c'è stato dai minimi della fine di novembre dello scorso anno. Se i prezzi versano di ritornare al di sopra della media mobile a 50 giorni, quindi al di sopra di area 13,54, non distante pertanto dai valori attuali, un tentativo di andare a riprendere la parte alta di questa fascia, quindi un ritorno sui 15 Euro diventerebbe del tutto probabile. Anche nel caso di Unicredit, come per intesa vediamo che il titolo sta cercando di correggere il pregresso, quello che parte dai massimi del 2015, intesa avevamo visto che in termini di tracciamento era ritornato sul 50%, però adesso Unicredit si ferma sul primo dei livelli di Fibonacci, il 23,6%, questo non significa però che non ci siano prospettive di rialzo all'oratura delle resistenze, anzi forse in termini di spazio disponibile per la crescita c'è in questo caso ancora più margine, il 50% in caso di ritorno sul 50% di retracement, vedremo i prezzi infatti intorno ai 21 Euro. Nel breve termine, come abbiamo detto, la resistenza da battere è quella di area 13,50, 13,55, primo target in quel caso al di sopra dei 15 Euro, solo se dovessimo scendere al di sotto dei 12 Euro, ripetiamo invece avremmo una probabile evoluzione negativa anche di medio termine. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.